Oh, Sayaka, guarda, lo schermo radar sta segnalando un oggetto volante non identificato. Potrebbe essere anche una nuvola, non le pare? Sembra che si sia fermato. È proprio sopra di noi. Vado ad avvertire immediatamente Rino. Qui è Yumi, dimmi. Salve Yumi, qui è la torre di controllo. Il radar ha individuato una strana nuvola sopra l'istituto di ricerca. Suggerisco di attivare tutti i sistemi di allarme. Ecco. Guarda tu rumbo. Alzate la barriera. Alzate la barriera. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, l'istituto di ricerca è nelle nostre mani. È certo che con queste foto aerei sarà uno scherzo attaccare l'istituto.